Negli episodi precedenti abbiamo visto participio passato con l'ausiliare avere. In questo caso vedremo participio passato con l'ausiliare essere. Benvenuti, bentornati e bentrovati carissimi. Cominciamo subito. Se ti piace questo video, iscriviti sul canale e attiva la campanella. Potresti lasciare anche un bel mi piace. In questo caso se io dico per esempio ho sentito dire che sei andato al supermercato. Posso rendermi conto che c'è il passato prossimo. Sei andato. Sei viene dall'ausiliare essere e andato viene dal verbo andare. Andato è un participio passato. Ma in questo caso andato finisce in O. E quindi io devo capire che se il participio passato finisce in O fa riferimento a un uomo. Se invece io dico sei andata, se finisce in A fa riferimento a una donna. Una donna. Alessandra, Francesca, un uomo. Andato. Marco, per esempio. Paolo. Ma se io dico invece sono andati, fa riferimento a un uomo e donna. Paolo e Alessandra. Oppure Paolo e Marco. Ma se io dico invece sono andate, fa riferimento a Alessandra e Francesca. Michela e Lucia, per esempio. Pertanto ne deduco quindi che cosa? Che quando io faccio questo tipo di participio passato con l'ausiliare essere, devo sapere che posso avere queste possibilità. Andato, andata, andati e andate. Andato fa riferimento a un uomo. Andata fa riferimento a una donna. Andati fa riferimento a un uomo e donna. O anche più uomini, più ragazzi. E andate fa riferimento alle donne. Quindi il participio passato del verbo andare è andato, andata, andati, andate. Venire, venuto, venuta, venuti, venute. Essere, stato, stata, stati, state. Uscire, uscito, uscita, usciti, uscite. Stare, stato, stata, stati, state. Arrivare, arrivato, arrivata, arrivati, arrivate. Entrare, entrato, entrata, entrati, entrate. Tornare, tornato, tornata, tornati, tornate. Partire, partito, partita, partiti, partite. Diventare, diventato, diventata, diventati, diventate. Rimanere, rimasto, rimasta, rimasti, rimaste. Se non hai ancora visto il participio passato con l'ausiliare avere, puoi trovarlo in descrizione. Grazie mille, ci sentiamo presto.